Ci siamo, siamo tutti alla terza venta di questa sera. Allora, io prima mi l'ho annunciati come Easy Project, perché lui è il signor Easy Project. In realtà, non sono Easy Project, è un progetto nuovo, giusto? Una cosa nuova. Adesso, allora, visto che meglio di lui non lo può spiegare a nessuno, adesso lui, prima di iniziare, ci spiega un attimino cos'è questa cosa, così poi siamo tutti contenti. Facciamo così, nel frattempo, un applauso. Bravi! Grazie. Easy Project, appunto, è il mio progetto personale, insieme a Dallestazio, nel tipo di fianco, siamo in Dream Soa. E adesso iniziamo a mostrare un po' delle vostre canzoni. La prima si chiama Oltre. La prima si chiama Oltre. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.